Viaggiare significa aprire una finestra sul mondo, è la curiosità di arrivare dove finiscono le strade, di scoprire cosa si nasconde al di là delle montagne, andare incontro all'imprevisto, accettare la sfida dell'ignoto per raggiungere i confini della terra. Se la vita è come un viaggio, ti proponiamo di farne uno con noi, faremo un viaggio affascinante e conturbante dove entusiasmo, voglia di vivere, giovinezza, ingenuità, povertà, forse indolenza, creano un mix che ti prende, che ti ammaglia, più degli spazi infiniti, più dei cieli azzurri, più dei colori, delle vesti e degli ornamenti. Se sei un giovane tra i 18 e i 35 anni, questo messaggio è per te. Se senti il desiderio di aiutare gli altri, in particolare i più bisognosi, i poveri, i malati, vieni con noi, andremo a conoscere il fantastico mondo dei Camigliani, il mondo di carità. Dall'intuizione originaria di San Camillo alla sua realizzazione, ci sono anni di tradizioni nel servizio. I Camigliani privilegiano in particolare l'assistenza ai malati. Oggi sono impegnati in oltre 40 paesi del mondo a sconfiggere malattie, povertà e miseria. E dopo aver dato uno sguardo alla realtà di questo mondo e considerate le nostre forze, ti reccheggeranno nella mente le parole di Gesù. La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Esse testimoniano la sfida a cui, assieme a tutta la Chiesa, anche noi siamo chiamati, in particolare la profezia della carità. Sarà la risposta alle attese di gran parte della gente e la dimensione in cui ci rendiamo credibili. Il fervore delle opere intraprese e il coraggio di nuove prospettive sono il segno di una creatività che non vuole fermarsi, ma essere aperta a sempre nuove frontiere, a nuovi viaggi. L'Ordine Camigliano ha fiducia di proseguire l'opera del fondatore e rilancia ai giovani il suo messaggio di misericordia, perché sia vissuto con ancora maggiore intensità ed entusiasmo negli anni futuri. Ti aspettiamo. Trovi le nostre proposte e molte altre informazioni sul sito camigliani.it Grazie per la visione!